ascoltare gli alberi basco brondi probabilmente come mi scrivono altri 515241101 il testo è dello stesso cognetti ma non ho fatto il giusto fact checking intanto c'è da assolutamente non far notare che appunto paolo cognetti oltre ad essere un ottimo scrittore un ottimo sceneggiatore ma sai che credo che l'abbia scritta lui forse l'hanno scritta insieme visto che nel film questa colonna sonora ho scritto 5 canzoni inedite ho scritto 5 canzoni inedite a casa mia ho scritto lui non lo so sembrerebbe così almeno basco dichiarato da basco brondi dato che ci metti i cuori alle storie instagram farci sapere anche un messaggino un dm o quello che vuoi 3515241101 se stai vedendo questa registrazione di questa recensione su youtube scrivilo nei commenti intanto dobbiamo parlare di fiore mio esatto parliamo di fiore mio che è appunto il film scritto e diretto da paolo cognetti che troverete nelle sale la prossima settimana per tre giorni quindi in una sorta di evento il 20 26 25 26 e 27 novembre e è una sorta di documentario possiamo chiamarlo così o più che documentario una storia d'amore un inno d'amore forse alla montagna cognetti che è anche il protagonista nel senso che è il colui che insomma ci guida all'interno di dei posti e della montagna in realtà in particolare il monte rosa insieme al cane laki laki scritto con l'altro cane che secondo me grande in effetti il grande protagonista è veramente il cane che viene portato in dei posti veramente assurdi nel senso io non so quanto è un animale ma non so quanto il cane abbia dimestichezza con con la montagna c'è sicuramente un ha fatto un po tenerezza adattamento vederlo affondare dentro la neve un abbraccio un grattino sul coppino quello che fa cognetti è portarci su quelli che sono i suoi luoghi delle lezioni i suoi luoghi del cuore raccontati però attraverso le voci di coloro che li vivono in particolare le voci di coloro che gestiscono una una delle dei rifugi uno dei rifugi che si chiama orestes utte quindi la malga di oreste e tra l'altro oreste che è scomparso insomma la persona qui è dedicata la malga credo che sia stato ispirazione anche per le otto montagne insieme al suo amico invece ancora in vita che fa la guida alpina e credo insomma la loro storia di amicizia sia un po un uno di quei riferimenti del libro e poi del film e sì 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 perché c'è da parlare da fare una piccola premessa innanzitutto chi è paolo cognetti è uno scrittore italiano che ha vinto il premio strega nel 2017 proprio con il romanzo le otto montagne le otto montagne è un film che se non avete letto dovete leggere e questo il libro è da leggere il film pure da guardare da guardare ma porta con sé un altro carico emotivo piuttosto importante perché le due i progetti anche le vite di queste persone che vi citerò si sono a tal punto intrecciate che hanno prodotto un effetto dominio diverso faccio due passi indietro dieci anni fa usciva un film che si chiamava non essere cattivo non essere cattivo è un film diretto da claudio caligari con alessandro borghi e luca marinelli protagonisti gli stessi protagonisti legati tantissimo da questa esperienza con con caligari ma anche forti anche del di quello che è successo prima durante e dopo il film non essere cattivo sono diventati un duo sono diventati amici hanno creato qualcosa di forte anche con la troupe il clan intorno al nel set creato appunto lì il duo si ripropone nel film le otto montagne e le otto montagne racconta a un racconto molto 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 forte e questa o legame che loro due si portavano da precedenti lavori e appunto dalla vita personale è in qualche modo entrata in contatto con l'amore incredibile per di paolo cognetti autore del romanzo ma anche sceneggiatura sceneggiatura del film il trio si è formato ma si è formato in un nuovo mondo in un nuovo contesto e anche in una nuova in un nuovo contesto anche filosofico perché paolo cognetti letteralmente li ha messi sotto e si è li ha portati nei luoghi che nel film li vediamo veramente ovvero intorno a casa sua ma casa sua sul monte rosa esatto torniamo quindi a fiore mio che è in effetti poi un un amore un inno d'amore per questi luoghi quello che fa cognetti prendendo a spunto l'acqua come elemento diciamo trainante del film che poi ovviamente strettamente legata al ghiacciaio e quindi alla montagna che è legato al cambiamento climatico esatto seguiamo insieme a cognetti il viaggio alla ricerca della fonte di quest'acqua che arriva fino a casa sua più o meno è questo il problema è che non gli arriva l'acqua a casa esatto lui si è chiesto come mai questa diciamo piccola fontanella che ho davanti casa quest'anno fa così tanta fatica quando arriverà l'acqua e quindi va a cercare cercando l'acqua trova le voci delle persone che vivono lì la cosa molto interessante io pensavo che il discorso del cambiamento climatico fosse molto più sottolineato quello che fa cognetti invece secondo me è ancora più intelligente cioè lui lo racconta attraverso per esempio le parole di una delle persone che vive lì e gestisce questo rifugio che dice io mi rendo conto di quanto siamo stupidi noi umani di quanto stiamo sprecando di quanto stiamo rovinando il mondo ma non ho paura per la natura perché la natura sa benissimo come sopravvivere c'era prima di noi mi rendo conto di quanto siamo stupidi noi ma non ho paura per la montagna e questa è una cosa che è un po il filo conduttore cioè la montagna è qualcosa di talmente più grande talmente più solido nel senso di sta lì da sempre e trova il modo di trasformarsi quello che viene anche molto sottolineato è come per esempio sia cambiato il rapporto fra la vegetazione e la montagna ovviamente se si scioglie di più c'è più vegetazione ma c'è ancora tanto ghiaccio sotto le rocce dice un'altra voce per cui quello che viene fuori è sta succedendo effettivamente qualcosa è un cambiamento molto grande ma attenzione siamo noi quelli che nel cambiamento perdono certo perché la montagna resterà dov'è cambierà forma il cambiamento della forma della montagna porterà dei cambiamenti in noi che siamo stati gli autori di questo cambiamento ma la montagna in sé sopravviverà sì 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 e questa è una cosa che da una parte è diciamo ti dà proprio la sensazione della grandezza rispetto alla nullità dell'essere umano ecco secondo me questo è è importante ed è un buon modo per raccontare il cambiamento climatico lo racconta tra l'altro in 61 minuti quindi non vi preparate non non siete spaventati dalla modalità tempistica con una estetica incredibile che poi è quella della montagna quindi queste distese ghiacciate ma anche queste distese di rocce sovrapposte e soprattutto queste persone che si muovono al ritmo della natura e questa è una cosa molto interessante la la musicalità della della natura io ora non ricordo avrei voluto segnarmeli ma ma si si vorranno recuperare i fonici di suono impresa diretta due persone che sono due persone esatto perché è secondo me quello è un bel lavoro è un lavoro in cui tu oltre alla musica perché obiettivamente anche la musica è molto ci sta tantissimo sulle immagini è il fatto che tu stai là e senti proprio il ritmo dei passi sulla montagna e il ritmo del ghiaccio che scricchiola e c'è tutta una orchestrazione sonora che ti accompagna in una maniera totalmente immersiva e capisco perché questo sia un film che va visto al cinema e che va goduto diciamo come un'esperienza fisica sì 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 e tornando appunto al preambolo che facevo non potendo paolo cognetti portare flavia capone giovanni villani fabrizio milu margherita alessio francesco giorgio tutti insieme sul monte rosa anche perché appunto come detto sti turisti lo usa c'è turisti che pensano che il monte rosa sia rosa perché perché è il colore del ghiaccio al tramonto no in realtà si chiama monte rouge una cosa del genere che vuol dire ghiaccio esatto uno di queste tante tante cose sono vengono proprio dalla da questo film il appunto la volontà di porti cognetti di portarvi dove lui vive ma non perché voglio farvi vedere la collezione di farfalle ma proprio perché c'è qualcosa di più qualcosa di prezioso che dovete appunto un fiore che è mio ma lo voglio ve lo voglio raccontare molto con grande urgenza è quello che fece con borghi e marinelli tra l'altro borghi e marinelli hanno tra virgolette sbroccato dopo l'incontro con cognetti perché per esempio marinelli ha aperto un cinema il cinema non so se è stato quello il motore però i loro cervelli hanno cambiato forma anche a livello artistico ma l'hanno dichiarato più volte comunque questi incontri hanno cambiato anche fisicamente personaggi di grande fama con noi questo film sicuramente è arrivato all'obiettivo non soltanto perché sentiamo la montagna ma anche perché seguiamo anche la ricerca come appunto se presi per mano come una scolaresca di bimbi dell'asilo attaccati mano per la mano a cognetti e poi da quello che faceva lui da bambino perché lui partecipava a queste sorte di scuole di arrampicata già da piccolo tra l'altro dice con grande sofferenza perché comunque non è che era una cosa proprio scioltissima stare in mezzo a proposito del termine cioè non era facile comunque avere un bambino no è un'esperienza abbastanza estrema lo era ancora di più penso 30 anni fa e quindi lui insomma ricorda queste cose però il tutto senza mai essere nel retorico né troppo personale cioè nel senso è vero che è la sua montagna che è la sua storia che sono persone che conosce però non è mai retorico non è mai ti racconto la mia storia non è mai stiamo distruggendo la natura e quindi tu sei una brutta persona trova un equilibrio che secondo me è veramente incommiabile e efficace quindi se potete andate a vedere questo film 25 26 27 novembre nelle sale fiore mio fabrizio scrive uno dei miei sogni è arrivare almeno alla capanna margherita sul monte rosa sappi che se vuoi paolo cognetti oltre che volendo se vai lì li bussi alla casa se c'è ti porta anche più su ma in fiore mio ti porta ancora più su e ti porta a vedere sia i ghiacciai sia ma non vi aspettate una delle riprese con droni alla linea verde no ma appunto poi c'è però sì ma appunto siamo più delle parti di vi faccio sentire il il ciottolato oppure ma non è matto a buttarsi in nella nel lago per siamo fa freddo c'è il ghiaccio come fa in una dimensione molto familiare cioè non una dimensione eroica vado sulla montagna e ti faccio vedere come sono pettate sopra il ghiaccio vi sconsiglio come ho fatto tra l'altro riemme facendo emergere un trauma del passato vi sconsiglio di andare al cinema senza aver bevuto acqua perché l'arsura che vi prende è un'esperienza che ho fatto vi fa tornare a quando avete fatto appunto la scalata al rifugio e i rifugi non è che hanno sempre sempre l'acqua corrente ma soprattutto hanno un l'acqua razionata ma soprattutto se lo fate in estate potrebbe avere l'acqua ancora più razionata quindi io stavo morendo di sete guardando una ricerca dell'acqua e quindi l'immersione l'immedesimazione era veramente ai livelli o sopra i livelli di guardia scrive margherita pensate sia un papabile se un papabile film secondo david secondo i david per cognetti no se vincerà david non credo no perché questo non è un film è una cosa diciamo è più una è più un racconto ecco è più un racconto di cognetti e no però è un racconto è un racconto cinematografico però un racconto non credo che abbia delle velleità diciamo di opera cinematografica e credo tra l'altro è stato presentato a locarno prodotto una produzione internazionale probabilmente siamo troppo poco siamo troppo distratti su altre cose noi italia e noi accademia del david noi non voto per il david però appunto l'accademia del david potrebbe dimenticarselo se state vedendo questa inter questa recensione e paolo cognetti ha vinto tutti davidi donatello del mondo mondiale sappiate che è bene così è un bel film ha vinto quindi bene sono contento di aver sbagliato abbiamo parlato di fiore mio ascoltiamo fiore mio ma non è di vasco brondi è di andrea lazlo de simone dall'album uomo donna